Xander Cage! È pazzesco! Ero a cocella quando i Guns and Rosy se sono tornati insieme, ma questo è molto più forte. Respira. Fa con calma. Conosco la respirazione bocca a bocca, se necessario. Wow! Cleary già ha lavorato a contatto con Gibbons. Fornirai supporto per la missione. E uno come te ha bisogno di tanto supporto. Quanto pesi? 100? 110? Sì, sincero. 120 al limite massimo per il mio gancio. No, andiamo. Sto scherzando, non ho la parola di sicurezza. È kunquat. Kunquat.